Ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video, sono Kai Ragazzi oggi sono tornato in questo nuovo video Per parlarvi dei nuovi snack pack che la Supercell ha rilasciato da poco Naturalmente il ragionamento non è ancora uscito Il ragionamento verrà rilasciato nei prossimi giorni Iniziamo subito con le cose belle Per i stronzi che utilizzano i bocciatori per fare 3 stelle Ovviamente così, scialle con la regina e le guagliette di C Insomma hanno abbassato il raggio d'attacco di questi bocciatori Ah 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 Insomma hanno cercato di bilanciare il meglio possibile questo gioco Una novità di questo nuovo aggiornamento sicuramente sono i maghi di livello 7 Che sono veramente una cosa fighissima Oltretutto hanno un design veramente molto cattivante Ma non abbiamo solamente i mago di livello 7 Ma abbiamo ragazzi persino i drago di livello 6 Per non finire ragazzi questi qua hanno messo persino il baby drago a livello 5 Perciò state attenti qua con le aeree che iniziano a far male eh Naturalmente potenziando le truppe non potevano non potenziare le difese Infatti è stato introdotto l'arco X di livello 5 E hanno introdotto persino le Tesla a livello 9 Purtroppo con questo nuovo aggiornamento Hanno tolto la possibilità di dare il doppio danno ai pecca da parte delle Tesla E hanno bilanciato le clan war Insomma vedremo i dettagli in futuro E ultima cosa ma non per importanza Hanno introdotto altre 25 pezzi di muro Dio Cioè che cazzo non finirò mai sto gioco Vabbè ragazzi sotto nei commenti ditemi cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento E come al solito ragazzi vi ricordo di lasciarmi un like e un commento E se non siete iscritti iscrivetevi A prossimo video